e ciao a tutti ragazzi super curiosi di queste animazioni bene non perdetevi questa presentazione vediamo subito dove si trova e cosa serve vi serve la global company aggiornata almeno alla 1.2 e poi spuntare ovviamente global company sawmill partiamo eccoci qua ragazzi questa è una mod di castor dei posizionabili per una segheria fantastica con annessi e connessi con delle produzioni super interessanti veramente e delle animazioni non da poco non banali veramente si è impegnato tanto veramente tanto vi dico subito che la mod è solo per pc vi lascio ovviamente il link in descrizione e adesso con calma andiamo a vedere prima di tutto il negozio così avete un'anteprima di quello che quello di come la mod e poi vediamo nel dettaglio ogni edificio e come di consueto vediamo il negozio dovete andare ovviamente sotto oggetti posizionabili global company perché primo serve la global company e quindi per forza trovate qua tutto allora la segheria 400 mila euro che è il cuore di tutto per appunto far produrre diciamo la parte corteccia facciamato lì la traduzione più più che si avvicina più tutto il discorso legni lavorati e cipato ovviamente la parte diciamo centrale alimentata appunto a cipato che ti dà praticamente un pagamento orario la parte come dire stoccaggio tronchi poi vediamo la chiamata so mila anche questa ma vabbè speriamo ovviamente in un prossimo minifix dei nomi ma è la parte dove andate a brappare i tronchi andiamo fino alle ultime due questa invece per la produzione di pallet e l'ultimo è il punto vendita per semplice fatto delle produzioni che introduce la segheria stessa più anche potreste vendere il scarto lo scarto diciamo quello che sembra cipato ma appunto è corteccia a meno che appunto non utilizzate nella centrale qua volevo essere velocissimo anche perché poi vabbè se ne seleziono una vi fa solo cioè vi posso solo far vedere come posizionare eccetera ma è un discorso diverso insomma che da che dai veicoli quindi per questo diciamo che è abbastanza ed ecco che con calma li ho messi giù diciamo uno alla volta questo è lo stoccaggio dei tronchi adesso vi faccio vedere la parte dove andate in pratica a per la produzione dei pallet dovete portarli anche qua delle assi di legno ovviamente l'ultima parte ma non ultima la mini centrale diciamo alimentata appunto a cipato e vi serve avere anche un punto vendita punto vendita sia per per quelle produzioni che vedete praticamente dietro qua alla alle grate quindi andiamo con ordine e andiamo con ordine con lo stoccaggio della legna la segheria l'abbiamo vista nell'anteprima diciamo del video poi ovviamente ve la faccio vedere ci mancherebbe qua vi faccio vedere che c'è una parte di scarico e di carico la legna che avete voi attenzione i numeri guardate i numeri di carico aumentano quindi potete portarla benissimo voi questi tronchi invece mezzi sono tra virgolette fasulli e mezzi adesso li vedrete comparire perché a colpi di 8000 litri anche se in realtà ovviamente compare prima moto mila è il valore massimo vi compare vi crea diciamo dei tronchi completi quindi la zona stoccaggio potete averla come no non è questo l'importante perché appunto in segheria potreste portare direttamente i tronchi che arrivano dal bosco la parte stoccaggio è interessante perché potete appunto buttare tutta la legna che volete e lui tra virgolette questa sia una parte come dire non proprio realistica 100% ci mancherebbe però vi crea diciamo di tronchi appunto che potete spostare e portare via quindi questi qua di questo colore sono veri tra virgolette per poter essere utilizzati in segheria mentre gli altri fanno più come dire pandan possiamo dire così ok resta il fatto quindi che o portate la legna voi o comunque potete anche comprarla in alcune produzioni qua ovviamente butto avanti il tempo per farvi vedere che tutto funziona come alcune produzioni della global company ovviamente potete anche comprarle le cose dipende se c'è l'opzione o meno e il costo e se ne vale la pena queste parti economiche le lascio a voi a vedere quando ci giocate eccetera vi faccio comunque vedere che quello che vi dicevo appunto qua nella parte guardate ovviamente ancora i numeri carico e scarico io posso andare a comprarmi degli altri tronchi vado a spendere per comprare questi tronchi ci mancherebbe perché è come se mi li consegnassero diciamo ma riempio la parte di input e poi output lui lo chiama cipato è tra virgolette un errore di trascrizione non confondetevi cipato in questo caso intende questi tronchi qua quindi anche questo da sapere farà un fix mi auguro i tronchi che sono enormi e vabbè dovete portarli da qualche parte dove dovete portarveli alla vostra segheria ripeto adesso io li porto qua ma qua in segheria potreste fare a meno della prima parte che avete visto dello storage dei tronchi e portar qua direttamente i vostri tronchi qualsiasi tronchi che avete e buttarli senza problemi quindi prima parte ha senso come stoccaggio e ha senso se volete comprarli per avviare le produzioni non vedo un altro utilizzo quindi questa è la segheria è il punto principale cruciale dove vedete che è tutta animata i tronchi che arrivano qua e pian piano vengono buttati sul nastro trasportatore e là già in funzione vediamo a sinistra era la parte del cipato e dall'altra lo chiama park è il pacciamato della corteccia poi non so se la traduzione è corretta è quello però in realtà sì quindi capite anche da voi cos'è insomma ecco come lavorazione di questi tronchi qua dentro questo gabbiotto c'è una circolare vabbè entra dentro guardatevi un po' di dettagli qua non ci andate dentro a far niente in realtà e le produzioni che escono sono queste ovvero delle travi in legno che poi vi farò vedere dove vanno a finire vi anticipo che sono quelle che andranno wrappate quindi confessionate e loro continuano a uscire in realtà dovrebbe arrivare a 3 dopo ovviamente il numero conta fino a un certo punto perché contano i litri tra virgolette comunità di misura di quando una trave è pronta quindi tante volte sono figurative diciamo non è che lo capite lo vedete comunque non preoccupatevi vedete ecco adesso sono realmente 3 e la segheria ho buttato avanti ovviamente ancora il tempo per sistemare il tutto per far sì che si abbassi diciamo il carico di legna in input e l'altro output sono queste altri altri assi insomma che vediamo adesso bene bene cosa fare queste partiamo da queste vanno rimosse ovviamente dopo un po e perché sennò c'è appunto il problema che come dire vi trovate la produzione ferma vi faccio vedere infatti sta qua ha un certo valore e mi segna che non può più essere non c'è più spazio ma perché perché è colpa degli altri è colpa di questi infatti adesso con sempre presto tutta attrezzatura csz che si adatta benissimo a questi lavori mi raccomando vi consiglio quelle che ho utilizzato io di utilizzarle come le utilizzate io insomma queste sono quelle che vanno praticamente nella parte della macchina fra patrice quindi le togliete e come tutte le produzioni e come ricordo una simile questo pack mi piace tanto infatti perché c'era nell'all thousand farming 15 con tutte le produzioni ma lo capite già da voi adesso riattiviamo il tutto comunque bastava tirare forse avanti anche un po il tempo e lo tiro avanti per farvi vedere che cosa che riprende il tutto perché ovviamente qualcosa il prodotto finale non tolto diciamo quando è un certo stadio fa sì che vi blocca la produzione appunto adesso tiro anche avanti in attimo così vedete il discorso luci notturne è un impianto è una fabbrica un edificio un placebo chiamato come volete veramente ben studiato ben congegnato non è lasciato nulla al caso mi piace davvero tanto e non vedevo l'ora di portarvelo sapevo che stava per arrivare e adesso ve l'ho portato qua vediamo appunto i due a sinistra cippato è il paciamato della corteccia a destra come ulteriori chiamiamoli pure scarti ma in realtà non lo sono derivazioni diciamo della lavorazione della segheria ma andiamo adesso vedere il resto che vi ho promesso vediamo allora subito partiamo con la liber prendiamo le nostre travi di legno e portiamo nell'altro edificio in realtà poi dovete far voi conti di capire se fare una cosa l'altra se comprare edificio l'altro cosa serve cosa non serve io vi spiego gli input e gli output e poi capite anche da voi che potete comprarli come meno insomma ovvio che se volete farsi delle lavorazioni al minimo la segheria va comprata quello per forza di cose qua assomiglia un po all'underson comunque l'effetto appunto è verrappare questo treno di travi in legno e qua fuori poi verrà spavonata la tendiamo con ansia e in grazia guardate cioè veramente non è un edificio banale non sono edifici banali per la cura dei dettagli ma che sono notevoli ma anche per le animazioni per l'idea veramente veramente merita quindi qua ovviamente ho fatto anche un attimo un taglietto vediamo la prima sfornata diciamo lui continua a lavorare poi è sparita ma non è perché deve arrivare la seconda è perché come vi dicevo prima fa parte di una specie di litraggio quindi questo qua adesso se uno si si avvicina vedete praticamente quanti litri sono e la tot percentuale che non è finito quindi bisogna ovviamente farne dell'altro e continuare insomma ecco qua vedete appunto carico e scarico adesso io gli aggiungo ancora tra virgolette pagandoli senza portarli qua dalla fabbrica proseguiamo a farvi vedere nuovamente un attimo di animazione che ci sta perché ripeto sono cose che non sono scatole chiuse della serie vedete butto un input e un output senza vedere niente c'è dietro proprio cioè non è un vedo non vedo è proprio un vedo e completamente quindi come dire tanto di cappello a castor che ricordo essere colui che ha fatto anche tutto quel bga biogas modulabile con infiniti posizionabili che ho presentato penso in luglio non mi ricordo comunque vi lascio qua la schedina in alto a destra della sua opera e ci sa fare sa veramente fare con i posizionabili nulla da dire e anche proprio ripeto come idee come sviluppo quindi andiamo a vedere un attimo il nostro mega output qua il nostro mega pacco sono super persino le etichette il qr non funziona come il famoso straw dawn però sono dettagli che fanno la differenza insomma credetemi ragazzi che un pack merita vediamo adesso il resto perché non è finita qui questi li avevo dimenticati no anche qua sempre grazie al icssz con questo attrezzo che si adatta a una meraviglia portiamo via con la nostra super liber che non so perché li hanno cambiato sto colore che fa un po' vabbè sarà politica aziendale della liber non mi ero accorto forse che ha cambiato un po' il colore io mi ricordavo un po' gialla di un'altra tonalità ma fa niente non è questo il punto voi dovete prendere il vostro carico qua di assi e portarli nell'altra nell'altro edificio che questo è un'altra chicca bestiale ragazzi veramente voi arrivate qua nel piazzaletto ovviamente i trigger si potrebbero vedere con f5 perché ha attivato la dev control della versione sviluppatore qua ovviamente vabbè è caduto perché ha sentito l'altro e vabbè non è quello il problema qua vedete gli assi singoli partono ma già vedete abbastanza ma cosa faccio vado dall'altra perché devo farvi vedere che lavoro ha fatto lo avete visto anche nell'anteprima del video perché ve l'ho messo proprio come come dire guardate il video fino in fondo praticamente c'è una produzione un continuo praticamente di pallet che vengono prodotti assemblati rotati spostati è proprio da guardare questa parte quindi ragazzi mettetevi lì e che dire osservate il tutto una volta osservato vedete che pian piano crea delle pile di pallet 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 dialetto semi italianizzato o italiano semi dialettizzato li chiamo sempre pallet adesso non stiamo qua a guardare il cavello il cavillo scusate comunque ci siamo capiti cosa sta facendo gli euro pallet praticamente e una volta che raggiunge un tot lì adesso non li vedo qua vista a contarli saranno due quattro sei uno sette otto va bene non è importante ma vabbè una volta fatto questo vedrete che parte il nastro tutti i rulli passa probabilmente sotto un controllo qualità ecco qua avevo tagliato un po perché veramente se no stavamo qua tutto il giorno ci mette ovviamente la produzione ci mette un pochino insomma dovete dargli il tempo anche qua presentazione ogni tanto butto avanti ovviamente e giustamente non sono stato qua tutto il giorno una volta come dire completato ormai siamo qua vabbè ha fatto dei tagli però godiamoci fino in fondo l'arrivo tanto agognato di questi benedetti pallet fuori dalla fine e finalmente ragazzi dopo una giornata di lavoro spiego ancora avanti un po il tempo vedete che pian piano escono e compaiono e vabbè hanno anche magari questi mini bug ma tra virgolette non badateci va vediamo infine vediamo infine cosa ne facciamo qua degli tra virgolette scarti produttivi della segheria niente prendiamo una bella benata ho preso la class che ho utilizzato nel mio ex puntate calendario dell'avvento non avendo l'inversore stavo per schiacciare l'inversore andavo contro il muro ma vabbè non soffermiamoci su queste cose che non sono importanti l'importante è sapere cosa che prendo la mia fantastica class mi avvicino alla tramoggia della mini 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 come dire fabbrica di corrente elettrica chiamiamola così proprio banale banale il senso è quello comunque buttate qualcosa di valore diciamo per riscaldamento e ve lo converte in un corrente corrente elettrica quindi qua il fuel che intende lui è caricarlo praticamente o dissipato o quello che chiama bark mulch mulch scusate e che è appunto quello che abbiamo buttato giù la paciamatura delle cortecce quindi questi facendo il punto sono gli edifici principali capite anche voi che alcuni sono necessari altri tipo questo magari anche no però se uno vuol fare il completo può ognuno trova la sua come dire la sua strada sia giocatore che gioca sia ogni edificio ha la sua speciale peculiarità ma manca ancora una cosa ovviamente lo vedevamo lì nello sfondo vi ho lasciato appunto il discorso trigger non ve lo mostro ormai avete capito potete scaricare il cipato ma anche quello potete venderlo ovunque ma specialmente il bark che non si può vendere sulla mappa ma solo a questo punto vendita come tutto il discorso pallet assi assette qualsiasi cosa che produce la segheria dovete tra virgolette per forza passare dal suo trigger di vendita detto questo abbiamo visto tutta una serie di edifici spero che lo utilizziate e lo utilizzerete in futuro spero anche io di riuscire a inserirlo in qualche serie ma come minimo mi premeva portarvi la presentazione che almeno dopo uno se la utilizza come meglio crede qua ovviamente parentesi ero sulla Fesbrum che l'avevo appunto già ampliata apposta per presentare il suo pack di BGA sempre dello stesso autore e quindi ho messo gli edifici senza una specifica ragione o come dire è solo proprio una presentazione quindi messi giù diciamo così tanto per vedere ripeto sono stato chiaro con tutto vi ho spiegato se qualcosa non è chiaro ovviamente basta commentare ci mancherebbe ci vediamo nella prossima presentazione e o serie intanto grazie a tutti un saluto e ovviamente fai bravi ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti